A Buonabitacolo si punta alla riqualificazione delle aree verdi. Il prossimo intervento inserito nell'agenda programmatica del Comune riguarda lo spazio a ridosso della strada provinciale 517, la Bussentina, nei pressi del Ponte Peglio. È stata presentata alla comunità montana la richiesta con tanto di progetto per procedere nei prossimi mesi a recuperare un'area pubblica che sarà ripulita e attrezzata di tutto punto per sottrarla al degrado e restituirla ai cittadini. Il progetto prevede, dopo i propedeutici e generali interventi di pulizia e livellamento del terreno, percorsi pedonali con pietrisco, recinzioni con paletti di castagno e siepi sempreverdi. Nel giardino, a misura di comunità, saranno piantumati alberi. Avrà un'area attrezzata con tavoli e panche in legno, cestini porta rifiuti, un'area panchine con pergolato, un dog park con recinzioni in castagno e rete metallica. All'interno due panchine, cestino porta rifiuti, oltre ad un pannello informativo per un corretto utilizzo del luogo. Sarà realizzato poi un gazebo in legno con due panchine e un'area di sosta per camper e auto. Il nuovo parco sarà un punto di riferimento per la comunità di Buonabitacolo e chi è di passaggio potrà trovarvi un punto di ristoro. Una volta realizzato, sarà uno spazio per tutti, recuperato ad una funzionalità ricreativa, utile e che va a cambiare l'aspetto estetico di un'area che sarebbe rimasta inutilizzata, strappata così all'abbandono.